Con l'arrivo di San Nicolò aumenta il pericolo per i bambini di ingerire frutta secca e dunque ecco i consigli dell'esperto. Ogni anno circa 6-8 bambini restano vittime di inalazioni accidentali di corpi estranei. Il dottor Giulio Donazzan, primario del reparto di pneumologia del comprensorio sanitario di Bolzano, torna a parlare di questo incidente tipico del periodo natalizio. Una situazione ad alto rischio di soffocamento che va rapidamente e correttamente gestito. La rimozione di frammenti di frutta secca è un intervento complesso che nel caso dei bambini comporta anche maggiori difficoltà. L'operazione viene svolta in anestesia generale e prevede la collaborazione tra anestesista, rianimatore, pediatra e pneumologo. Il periodo in cui si concentrano gli incidenti di questa natura è quello tra San Nicolò e Natale. In questo arco di tempo si registra un aumento del consumo di frutta secca, immancabili nei tipici sacchettini di San Nicolò, presente in tutte le feste che caratterizzano il mese di dicembre. Per evitare questo tipo di incidenti, afferma Donazzan, sarebbe da modificare le usanze, evitando di tenere frutta secca in casa se ci sono bambini al di sotto dell'età scolare, in modo che non possano venire a contatto con cibi potenzialmente pericolosi. Per evitare le usanze, in modo che non possano venire a contatto con cibi potenzialmente pericolosi.